Lavoro, te credo che lavoro, al consorzio, come quale? Esce il locale che c'è un artista! Al consorzio di Bonifida, come dove a Latina no? Come che voglio? So qui per esame? Se ho letto qualche cosa? No. Come faccio a studiare al lavoro? Mi metto a leggere Kripke e Chomsky. Hai i miei fighici pezzi di te? Che me frega? Poi io non riconosco. Come che non riconosco un cazzo? Perché voglio fare esame? Mi mancano solo filosofia modale e teoriati di modelli, mi mollo così perché sei bella te. Com'è qui il danno semiotica? Il Dams? E che? Ha non una filosofia. Andiamo bene. Adesso mi lo dici. Suri ed 하면 i minnogliati. Beide sono stranissi!